Oggi sinceramente sono emozionato, non mi aspettavo così tante persone, quindi spero di avere altri intoppi di carattere tecnico o meno. Avete visto il titolo della... ho aggiunto stamani il nostro passato, perché come diceva George Orwell, si legge male che purtroppo si è un po' perso la formattazione, chi controlla il passato controlla il futuro e chi controlla il presente controlla il passato. È una frase riportata nel libro 1984, che la gran parte di voi aveva letto, è una frase che ci dice quanto è importante il nostro passato per capire il presente e quanto è importante per progettare il futuro, per capire gli errori e anche le cose giuste che sono state fatte nel passato. Allora il passato, cominciamo da lì, magari direte quanto la fallunga sul passato, anche perché recentemente c'è stata una teoria, quindi addirittura parliamo degli ominidi, no? Sembra che dagli studi più recentemente effettuati in realtà l'uomo abbia cominciato a camminare in piedi, non sulle terre della savana come si pensava fino a poco tempo fa, ma secondo questa nuova teoria, che sta avendo sempre più credito nel mondo scientifico, nell'antropologia, sembra che il bipedismo in realtà sia nato sugli alberi, seguendo delle scimmie antropomorfe, hanno visto che praticamente l'evoluzione è arrivata partendo dagli alberi, poi siamo scesi e abbiamo mantenuto questa postura retta che adesso tutti noi abbiamo. E si parla tanto di antropocene, l'altra sera ho seguito Carlo Pedrini, molto interessante, ci ha parlato appunto di questo antropocene, di questa parola che è diventata ormai comune sulla bocca di tutti, no? Lo usiamo però in realtà una definizione di antropocene non c'è, cioè non sappiamo quando è iniziato, sappiamo che è l'epoca dominata dall'uomo, dominata dalle città, ma non sappiamo in realtà quando sia realmente iniziato. C'è chi parla, diciamo, dell'epoca industriale, c'è chi parla addirittura dopo la seconda guerra mondiale. L'altro giorno ho seguito una conferenza, ero fuori Firenze per una conferenza, e c'era un filosofo che ha detto un'altra cosa che io ho ripreso e che mi sembrava una teoria forse più interessante, cioè che il primo atto dell'antropocene è stata l'agricoltura, cioè quando l'uomo ha cominciato a coltivare alberi e altre specie, anche specie erbacee, specie arbustive, per fini alimentare. Ecco lui lo considerava e secondo me, da un certo punto di vista, è anche giusto considerarlo perché è la prima volta che l'uomo comincia a abitare insieme, comincia a creare dei villaggi e comincia a coltivare la terra. È una terra che, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ci dice che è affidata all'uomo, che la deve curare come un giardino. Dio glielo ha consegnato e questo posto, diciamo, deve essere in qualche modo coltivato e custodito nella maniera migliore possibile. E questo in realtà lo abbiamo fatto per un po' di tempo, anche perché nella Bibbia, scorrendola, ovviamente non l'ho letta tutta, adesso si può scaricare e si trovano le parole, guardate quante volte delle singole specie o la parola albero viene menzionata, è quasi sempre in maniera abbastanza importante. Avete quasi 200 volte la parola albero o alberi, 180 volte la parola, scusatemi, quasi 130 la parola incenso, che è un albero tipico dell'areale mediterraneo o comunque nordafricano, e altre come la quercia, l'olivo, il cedro, e tutta una serie di piante che ritroviamo anche nei nostri giorni. E sorprende, fino a un certo punto ovviamente, quanto di comune ci siano fra gli scritti, i due scritti delle due religioni, grandi regioni monoteiste, considerando anche la terza, il giudaismo, che comunque fa affidamento alla Bibbia, quanti, diciamo, punti in comune ci sono proprio riguardo agli alberi, alle loro proprietà, qualche volta proprietà taumaturgiche, qualche volta proprietà anche quasi divine, come in realtà venivano loro affidate dai popoli del nord Europa, i quali sostenevano che negli alberi praticamente era la casa di alcuni spiriti o alcuni dei, tanto che Carlo Magno, durante la cristianizzazione dell'Europa, soprattutto della Sassonia, una delle prime cose che fece purtroppo fu abbattere questi alberi secolari che erano venerati dalle popolazioni locali. Però questo, diciamo, questo imprintment che c'era stato dato dalla Bibbia e anche da altri scritti pre-Cristo è rimasto e due filosofi, Seneca e Ovidio, che più o meno, diciamo, vissero o a cavallo comunque durante i primi anni del primo millennio, quindi contemporaneamente praticamente a Gesù Cristo, sostenevano che la terra andava protetta, che addirittura l'estrazione, la metallurgia, come c'è scritto lì, non dovevano essere ammesse perché rappresentavano sostanzialmente una violazione della terra, cioè era un qualcosa che non si doveva fare. E facendo un balzo avanti nel tempo, Leonardo addirittura considerava i fiumi, comunque i torrenti, come praticamente le vene della terra, e considerava quasi un sistema sanguigno, una terra che quindi viveva un organismo vivente in tutto e per tutto, e poi vedrete che su questo ci torneremo. E la natura era identificata come una madre. Leonardo è stato il primo grandissimo botanico, era un genio, sappiamo, vedete, intuizioni incredibili, tanto che ancora oggi si studiano i suoi disegni per capire la crescita delle piante e anche l'evoluzione delle piante stesse. Poco dopo cambia, si va in un'altra epoca, e filosofi come Francesco Bacone addirittura non solo sostenevano che le estrazioni minerali, lo sfruttamento delle risorse non fosse un qualcosa di non buono per la terra, ma addirittura spronavano, addirittura quasi era un dovere estrarre la terra, era un dovere sfruttare la terra per far crescere il genere umano. Perché questo ovviamente dava un progresso scientifico, dava un progresso sociale, dava soprattutto un progresso economico. In quel momento la terra stava crescendo, stava quasi raddoppiando gli abitanti, un periodo, diciamo, non troppo bellicoso, e questo ovviamente favorì anche la crescita economica. Si salta un altro secolo circa, si arriva all'epoca illuminista, e gli illuministi ovviamente hanno un pensiero molto più libertario, molto più aperto, e come vedete lì è naturale sinonimo di razionale, cioè nella natura si vede anche la razio, la ragione, e di conseguenza si rispetta la natura e la si conserva quanto più possibile. E poi purtroppo, o per fortuna, non sta a me dirlo, e arriva la rivoluzione industriale. Il mondo cambia, cambia radicalmente, purtroppo cambia per certi aspetti non in un modo positivo. Dopo qualche decina di anni Londra è una città fortemente inquinata, una città dove si muore, scusatemi, di problemi broncopolmonari, dove purtroppo la working class, la classe operaia, ha un'aspettativa di vita che addirittura si è ridotta rispetto a quella che avevano gli agricoltori di quell'epoca. E Patrick Geddes, che era un famosissimo botanico, un paesaggista, uno fra i primi paesaggisti del mondo, guardando New York, qui siamo nel 1915, lui scrisse questa frase che è rimasta scolpita nel tempo, cioè che la città non è, come c'è scritto lì, un luogo nello spazio, ma un dramma nel tempo. Lui, con cento anni di anticipo, forse anche qualcosa di più, intuiva quello che poteva diventare un grossissimo problema guardando a una città, a una metropoli, all'epoca già di oltre un milione e passa di abitanti che, capite bene, all'inizio del secolo XX erano tantissimi. Purtroppo però non gli abbiamo dato molta retta e sono passate due guerre, c'è bisogno di ricostruire, c'è bisogno di creare abitazioni per le persone che dalle campagne si spostavano in città dove c'era lavoro, dove si pensava ci fosse un maggior benessere e quindi abbiamo cominciato a costruire, a costruire senza tener conto anche di ciò che gli intellettuali ci dicevano. La parola intellettuale è diventata quasi, non dico un'offesa, ma non una parola molto di moda in questo momento, cioè persone che con il loro pensiero comunque ci davano dei suggerimenti, non erano ambientalisti, non erano dei tecnici come possono esserlo io, erano delle persone che guardavano, osservavano e capivano che c'era qualcosa che non andava. Questa è una frase che io ho preso pari pari da un libro, va bene? È certo che la soluzione degli urgenti problemi dell'ambiente, la stessa sopravvivenza alla vita sul pianeta, sono possibili solo se verrà adottata una nuova cultura che, pur imponendoci dei sacrifici materiali, ci permetterà di vivere in un mondo più pulito, di ritrovare un rapporto umano con gli altri esseri viventi, di lasciare un ambiente accettabile ai futuri abitanti della Terra e sostenibilità prima che la parola fosse coniata. Per realizzare questi obiettivi occorre un cambiamento radicale di molti dei modelli di comportamento finora adottati, occorre inventare una nuova filosofia dei rapporti fra l'uomo e la natura. Purtroppo manca un pezzettino. Questa frase sembra scritta ieri, sembra presa da un libro o da un articolo che parla dell'ambiente, un ambiente che abbiamo violato, purtroppo i risultati li stiamo vedendo tragicamente in questi giorni. Quella frase l'ha scritta Giorgio Nebbia nel 72, quindi oltre 50 anni fa. Dopo di lui anche Barbieri, Barbieri è un altro degli ecologisti tra gli anni 60 e 70, scrisse una fase abbastanza simile. Lui però andò un pochino più avanti, parlò di verde, di verde urbano, in un'epoca in cui crescere voleva dire costruire, voleva dire fare grandi palazzi come quelli abbiamo visto prima e come vedremo successivamente. Ci dice che il verde è una delle maggiori invenzioni d'urbanistica moderna, e ciò sfata uno dei tanti luoghi comuni diffusi dagli speculatori nella parte meno preparata all'opinione pubblica, secondo cui le città del nostro tempo sarebbero ineluttabilmente condannate alla congestione e al soffocante gigantismo al caos. Cioè lui diceva, guardate, la città non è così negativa, basta che ci sia anche un qualcosa di natura. E questa frase è in questo libro che un insegnante illuminato nelle medie ci fece acquistare come libro accessorio. È un libro che io tuttora leggo, trovate ancora in commercio. Ci sono tutta una serie di capitoli che guardate, leggendoli, si parla dei primi computer, si parla della prima informatica, un libro del 75, e tutte le volte che prendo in mano qualcosa rimango sbalordito da come nero su bianco ci avevano detto quello che sarebbe accaduto e non l'abbiamo ascoltato. E un grandissimo, Antonio Cederna, ieri mi è capitata questa poesia che è in un libro di Francesco Erbani che descrive un po' la figura di Cederna, che è stato un grandissimo ambientalista. C'è una poesia in cui parla dei ragazzi. Non so se la leggete. È bene che i ragazzi siano murati vivi negli intensivi, senza prati nei campi sportivi. Solo scoliosi e paramorfismi spingono ai giusti salutari estremismi. Solo la fisica deformazione è garanzia di rivoluzione. E' quello che anche lui 50 anni fa è successo. Stiamo parlando di indoor generation, di ragazzi che stanno 22 ore, 23 ore in casa, alle volte 24 ore su 24 in casa, con tutti i problemi che poi ne derivano. Quindi anche qui c'era un grosso avvertimento, un forte avvertimento che è rimasto del tutto inascoltato. E è rimasto inascoltato anche perché questo era lo sviluppo, no? Il Corviale era lo sviluppo. Era lo sviluppo lo Zena a Palermo. Eppure anche grandi architetti. Lo Zena ha progettato Gregotti, un grandissimo architetto, no? E' come le vele di Scampia. Quello che adesso additiamo come la peggiore urbanizzazione possibile. Eppure l'hanno fatta a Milano, l'hanno fatta a Roma, l'hanno fatta a Napoli, l'hanno fatta a Palermo. E l'hanno fatta anche in parte a Firenze, anche in parte a Pistoia, seppur in piccola misura. E passando un po' a qualcosa di più ludico, però è sempre sintomatico, sempre indicativo, no? Guardate, questa è la frequenza con cui parole legate alla natura erano presenti o sono presenti nelle canzoni. Direte, cosa c'entra le canzoni con l'ambiente? Invece c'entra nel come? Vedete come negli anni 70, in corrispondenza di quello che ci dice i grandi ambientalisti, del movimento dei figli dei fiori, no? Del 68, c'è un incremento improvviso delle parole legate alla natura nelle canzoni. Poi c'è un decremento, i famosi anni 70, 80, 90. Negli ultimi anni c'è un nuovo, una nuova risalita. Si comincia a riparlare di ambiente, e si ricomincia a cantare cercando di trasmettere messaggi. E guardate, i messaggi li hanno trasmessi sia autori stranieri, pensate a Gioni Micce questa canzone, penso la conosciate tutti, no? Lei andò a fare un concerto all'Auahi, si affacciò dalla terrazza nell'albergo dove era stata qualche anno prima e anziché vederci la spaggia con le palme ci vide un parcheggio completamente asfaltato. E disse hanno pavimentato il paradiso per realizzare un parcheggio. E questa canzone è poi stata ripresa anche dai Counting Crows, tanti complessi l'hanno suonata, è un refrain molto accattivante. Ma pensiamo a What a Wonderful World. Louis Armstrong comincia con dei versi bellissimi. Vedo alberi verdi e anche rose rosse, le vedo sbocciare per me e per te, e fra me e me penso che mondo meraviglioso. Anche questa è una canzone, è un inno all'ambiente, anche se magari è scambiata per un altro significato, così come una canzone che magari per una scarsa conoscenza l'inglese, io sinceramente finché non ho imparato l'inglese, e l'ho imparato anche abbastanza da adulto, andando negli Stati Uniti a lavorare, sinceramente per me era una bella canzone, Merci, Merci, Merci di Marvin Gaye. Ma il testo è incredibile, cioè lui dice sostanzialmente quanti altri abusi da parte dell'uomo dovrà sopportare la terra. Perché anche lì, era negli anni 70, chi osservava cosa stava accadendo si rendeva conto che avevamo imboccato un'autostrada purtroppo che non ci portava da nessuna parte, anzi forse ci portava verso un baratro prossimo. E comunque anche in Italia, non è che gli italiani siano stati o siano da meno, non è pensato alla canzone di Giorgio Gabrile come bella la città. Lui, ironicamente, io mi sono tolto gli occhiali, però vedo, ci sono persone giovani, persone anche della mia età, vi ricorderete benissimo, una canzone allegra, sembrava una presa in giro, in realtà era una satira fortissima di quello che stava accadendo, cioè questo spostamento, questa migrazione dalle campagne verso la città dove si pensava ci fosse il benessere, dove si stava meglio, dove c'era tutto, non stare in campagna, che ci stai a fare in campagna? Vieni a vivere in città e sicuramente uno che l'ha sempre detto, più volte, è Celentano. Celentano e la sua canzone Un albero di trenta piani, addirittura proprio cita la parola albero, con un testo chiaro, preciso, e anche lì sembra che lui si faccia di leggi le persone che stavano in campagna, lui stesso veniva da una zona che quando lui è nato era campagna, ma che in realtà è dietro la stazione di Milano, via Gluc è ormai in centro, quasi a Milano, il testo è esemplificativo, emblematico, direi, di quello che stava succedendo, appunto, io spero che stia sonnascendo un albero, forse un albero di trenta piani, non è un caso che Stefano Voeri abbia preso ispirazione da questa canzone, l'ha detto lui stesso, per costruire il suo bosco verticale, un albero praticamente di trenta piani. e lo stesso Celentano, poi anche nel ragazzo della via Gluc, l'ho menzionato prima, a un certo punto, se vi ricordate anche lì il refrain, io non so perché continuano a costruire case e non lasciano l'erba, se andiamo avanti così, chissà come finirà. E l'abbiamo visto come finirà. Purtroppo non bene, diciamo non è finito tutto, ma dobbiamo in qualche modo invertire la rotta. Quindi, al presente, qualche anno fa, se parte il video, mi auguro, questo video a me mi impressionò, brevissimo, non vi preoccupate. Una maestra chiede alla bambina, la bambina di cinese, prima delle Olimpiadi, prima che la Cina cambiasse un pochino, se aveva visto le stelle, se aveva visto il sole, se aveva visto nuvole bianche, questa bambina non le aveva mai viste. Rendetevi conto, cioè una bambina che non sa che il sole è giallo, diciamo, che le nuvole sono bianche, che il cielo è azzurro, perché non l'ha mai visto. Questo purtroppo è il presente in certe aree del mondo. Questo è il motto dell'Expo 2010 a Shanghai. Era migliore città, miglior vita. In Cina, la traduzione era la città è migliore, in cinese, non era better city, better life, ma era the city is better. E questo cosa ha causato? Chiaramente anche spinto da un regime che sappiamo bene non è certamente democratico, che dal 2010 ci sia stato un esodo impressionante, che già era partito prima, ma dal 2010 si è fatto ancora più forte dalle campagne verso le città. pensate dal 2012 al 22 in dieci anni sono spostate 200 milioni di persone, che vabbè, stiamo parlando di una popolazione di un miliardo e due, però vuol dire che quasi il 20% si è spostata e come se in Italia nello stesso periodo si fossero spostate 12 milioni di persone dalle zone rurali, che probabilmente non ci sono neanche, fino alle città. E allora abbiamo un problema, come dicevano l'Apollo 13, le città ovviamente sono causa e vittima dei propri problemi, però ormai la popolazione, il 56% della popolazione mondiale vive in città, in Italia siamo al 70%, il mondo arriverà al 70% nel 2050, che non è così lontano come pare. Allora dobbiamo fare in modo di costruire città e di applicare il 110% anche alle nostre città, cioè a cambiarle in modo che noi che ci viviamo, tutti noi che ci viviamo, possiamo farlo in un modo molto migliore, molto più sostenibile, molto anche più vivibile. Più recente, questo è un film che credo molti voi l'avranno visto, un film che a me ha impressionato, un film anche un po' enigmatico, non si capisce moltissimo. Chi è il vero nemico del gioco? In realtà il vero nemico del gioco è la città. E questa Gotham City è una città inventata, in cui lui ormai non vive più, non si trova più e quindi impazzisce perché ovviamente gli tolgono il sussidio e quindi non può più comprarsi le medicine. Però questa città, questa città può essere così, molto simile, guardate come cambia. Siamo sempre una città americana, una grande città, si vede un po' lo smog sullo sfondo, ma chiaramente è una città molto diversa, quindi la città può essere anche amica, non necessariamente dobbiamo pensare la città come un demone o come un mostro che ci sta, come spesso si vede anche nelle raffigurazioni, che ingloba tutto e si mangia tutto. Certo, mangia molto, mangia i tre quarti di ciò che viene prodotto nel mondo, le città mangiano i tre quarti di tutto e purtroppo anche producono quasi tre quarti dell'inquinamento e dei rifiuti. Ma comunque viviamo lì e quindi dobbiamo cercare di ridurre questo 75% di consumo e questo 70% di rifiuti. E guardate, il sistema c'è, il sistema c'è, siamo uno, uno dei tanti, ma uno che costa poco e che è l'unico che ci consente di abbassare l'entropia delle nostre città, che tende sempre al massimo, sono gli alberi, gli alberi, le piante, gli esseri viventi che sono in grado di trasformare l'energia solare in energia chimica, addirittura l'energia elettrica, in certi casi, ma sicuramente l'energia chimica e soprattutto in alimenti. Renzo Piano diceva che, ha detto, non diceva, l'ha detto qualche anno fa, che basta guardare un albero con un dialogo silenzioso, non importa parlarci, non importa abbracciarlo, anzi, gli alberi non vogliono essere abbracciati, addirittura alcuni hanno le spine proprio perché non vogliono nessuno intorno, vogliono essere rispettati. Non abbracciamo gli alberi perché facciamo altro che pestare intorno, calpestiamo, compattiamo il terreno, e probabilmente anche creiamo delle ferite alle radici superficiali, rispettiamoli. E lui dice appunto, è quasi una seduta di autoanalisi, quella di guardare un albero, questa frase l'ho trovata molto bella, addirittura lui parla di un patto di complicità che col tempo si instaura fra le persone e gli alberi. questo rapporto di complicità in realtà ha un nome, si chiama biofilia. Nel 1984 Edward Wilson, che era un socio biologo americano, bravissimo, era un genio, era una sorta di Darwin del ventesimo secolo, anche in parte il ventunesimo, è morto poco più di un anno fa, disse che la biofilia senza avere le basi scientifiche, le conoscenze scientifiche per dimostrarlo, che era l'innata tendenza che noi esseri umani abbiamo verso ogni altra forma di vita, sia animale, sia vegetale. In realtà questo vocabolo l'aveva detto per la prima volta Eric Fromm nel 62, pensate 22 anni prima, però non l'aveva circostanziato, l'aveva anzi detto in circostanze un po' diverse, mentre Wilson lo disse proprio in queste circostanze, nel suo libro Biofilia, che è uscito appunto 39, ormai quasi 40 anni fa. E poi con l'evoluzione, la ricerca, soprattutto in campo psicologico, ma anche la ricerca, poi la vedremo, in campo della fisiologia vegetale, quella di cui mi occupo prevalentemente io, c'è un'altra forma di rapporto, è la sola stalgia, è una parola un po' complicata, è l'acconiata da un psicologo australiano, Albrecht, nel 2005, la sola stalgia è la crase fra due parole, solasium, che in latino vuol dire divertimento, diciamo, lo dico molto banalmente, e algia, che è la radice della parola dolore, no? Algos. Quindi sostanzialmente la sola stalgia è una forma di disagio mentale o esistenziale, non è un dolore fisico, è un qualcosa a livello interiore che ci è causato dai cambiamenti ambientali, non solo quelli climatici, proprio cambiamenti ambientali in genere. Il problema è che delle volte non sappiamo come uscirne. E questa sola stalgia, questo stato di disagio, adesso lo possiamo misurare anche con mezzi molto moderni. Questa è una ricerca molto interessante, fatta qualche anno fa pre-Covid, va bene, in cui, grazie, diciamo, alle compagnie telefoniche, questi autori hanno esaminato i tweet anonimi, ovviamente, che provenivano da aree urbane o da parchi all'interno di aree urbane. Ecco, hanno visto che i tweet, cioè i messaggi che venivano messi su Twitter, i post su Twitter, quelli che provenivano da le persone che si trovavano in quel momento nei parchi o comunque in aree pseudonaturali erano tutti, tutti, insomma, la gran parte erano positivi e non usavano quasi mai la persona, la prima persona singolare, ma parlavano col noi o addirittura con un generico loro, mentre quelli che provenivano dalle aree molto trafficate, molto più urbanizzate, avevano una connotazione più negativa, no, non posso, quindi la parola no ricorreva più spesso, non posso ricorreva più spesso e questo è sintomatico di un'altra parola molto difficile, psicoterratica, anche questa forse sono parole che fanno più impressione che altre, però la psicoterratica è un malessere che insorge per il distacco che ognuno di noi più o meno frequentemente esperienza nei confronti della natura e in Giappone questo, questo disagio, questa forma di disagio si pone rimedio con delle passeggiate nei boschi, il famoso forest bathing, la terapia forestale che in Giappone, in Corea e in Canada è una prescrizione che viene data dai medici e che è soggetta al rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale o dalle assicurazioni per chi ce l'ha, cioè passeggiare almeno due ore a settimana in un bosco ha delle capacità tonificanti e rigeneranti sul nostro organismo che sono pari al consumo e all'utilizzo di medicinali di sintesi e questo, torniamo un attimo indietro, non vi spaventate, non ricomincio da capo, l'aveva già intuito Leonardo da Vinci, genio, grandissimo genio, il quale scrisse che ti muove, uomo, ad abbandonare le proprie tue abitudini della città e lasciare i parenti ed amici ed andare in lochi campesti per monti e valli se l'onda naturale bellezza del mondo la quale, se ben consideri, sol col senso del vedere fluisci. Lui anticipava di 500 anni la terapia forestale, anticipava quello che è il contatto con la natura, addirittura anticipava perché lui si rese conto, questa è un'immagine appunto di questa terapia forestale che ovviamente, come vi dicevo, ad essere riconosciuta anche a livello medico, si rendeva conto che c'era un qualcosa, osservando i boschi delle foreste del Prato Magno, vide che c'era nelle giornate limpide una sorta di alone sopra le foreste e lui capì, intuì che quest'alone erano sostanze prodotte dalle piante e lui non capiva che tipo di sostanze, no? Però intuiva che questo era il motivo di quell'alone, non era una cosa del calunare un fenomeno fisico, o meglio lo era, ma era legato anche a un chimismo delle piante. Adesso lo sappiamo, sappiamo che le piante emettono dei composti organici volatili che sono quelli che poi noi ispirando beneficiamo delle loro proprietà, isoprene, monoterpeni, limonene, quegli aromi degli agrumi, delle foreste di conifere, sono quegli aromi che ci fanno star bene e sono quelli su cui si basa appunto questa scienza, questa nuova applicazione scientifica, cioè la terapia forestale che è in certi paesi appunto una pratica di sanità pubblica basata su quella che è la medicina dell'evidenza, Evidence-based medicine che propone di fare attivamente, di passare tempo attivamente in aree forestali. E fra l'altro adesso si è visto, migliorano le strumentazioni, migliora anche l'intuizione dei ricercatori che non è solamente un fatto di respirare, addirittura ci sono alberi, soprattutto quelli che sono attaccati da funghi del decadimento, quelle mensole che si vedono, non tutti, che si vedono fuori dai tronchi, ecco, questi funghi addirittura hanno proprietà biomediche e alcuni sono in questo momento testati per la loro capacità di contrastare le infezioni virali, in particolar modo il Covid-19. E questi composti organici volatili, BIVOC, di origine biogenica, BIVOC in linguaggio scientifico, sono quest'alone, vedete, quest'effetto foschia che c'è sulle montagne che fu riproposto più di 60 anni fa da questo studioso che si chiamava Wendt, che possiamo considerare il primo che ha in qualche modo intuito, se non dimostrato, le proprietà terapeutiche di questi composti. Adesso ci stiamo lavorando, anche i miei collaboratori ci stanno lavorando su questo argomento, vedete, quelli sono un po' dei composti che vengono emessi e addirittura recentemente è stato scoperto che un micobacterio, il micobacterium vacche, è un microrganismo che è presente nel suolo, quell'odore un po' di muffa anche un po', ricorda un po' l'escremento delle vacche, è in grado di potenziare il nostro sistema immunitario, quindi nella natura sono presenti anche le medicine che magari non conoscevamo, ritenevamo che non fosse possibile che nel suolo ci fosse la medicina. Il suolo è quella metà nascosta che noi non vediamo, ma ricordatevi che la nostra vita dipende da quei 15 cm di suolo che sono vicini alla superficie. se noi copriamo quel suolo lo rendiamo sterile in qualche modo influenziamo fortemente la nostra stessa vita perché la nostra stessa vita dipende da quei 15 cm di suolo così come quella di tanti organismi animali e vegetali. E questi sono un po' di lavori, non sto perché è una chiacchierata quella oggi che facciamo, anzi vi chiedo di fare domande anche perché magari qualcosa mi sono scordato, questi sono un po' di lavori recenti su questo argomento, vedete, effetti antipertensivi mi ci vorrebbe a me perché c'è un po' di pressione alta, produzione di cortisolo, depressione, disturbi dell'umore, addirittura in grado di, come dicevo prima, di influenzare il sistema immunitario producendo le cellule natural killer, cioè quelle che ci aiutano a superare infezioni o comunque problemi. L'effetto ovviamente non è che basta un minuto o basta un'ora, è dose dipendente, è funzione della persona, funziona anche del luogo in cui ci troviamo e anche delle condizioni stesse, non è che si guarisce da una patologia grave andando in foresta, si sta meglio, quello sì, e sicuramente la foresta è un qualcosa che ci aiuta nel processo di guarigione. Quindi possiamo dire addirittura che è una specie di Prozac, il bosco, e che appunto nelle teorie di Urrich dell'81, mai più di 40 anni, lui dice che gli ambienti naturali promuovono il recupero dallo stress. Lui fece quella famosissima ricerca, è stato un pioniere, nel 1983 pubblicò una ricerca su Science, lui dopo dieci anni di osservazioni di pazienti che erano stati operati per la collecistectomia, quindi un'operazione che negli anni 70 richiedeva una settimana di ospedalizzazione più o meno e che adesso si fa quasi per fortuna ambulatoriamente, ecco lui dimostrò che i pazienti che passavano la propria convalescenza in una camera che guardava il parco fuori dall'ospedale rispetto a coloro che la passavano invece in una stanza che guardava su una parete di fronte, avevano un periodo di ospedalizzazione di circa 1,2 giorni in meno e necessitavano del 26% in meno di antitolorifici, il che se lo ha rapportato a un sistema sanitario anche come il nostro che costa 115-117 miliardi l'anno, ovviamente questo vuol dire una riduzione sostanziale di quelle che sono le spese sanitarie per queste persone. E allora arriviamo al futuro, no? Perché fino a ora è spassato il presente, guardiamo in avanti, dobbiamo guardare in avanti perché ci viene imposto non solo per noi ma anche per coloro che ci seguiranno, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Quindi quale futuro vogliamo, quello di destra o quello di sinistra? Questa in realtà è New York, è una città che sta pensando di diventare come quella di sinistra ed è stata per tantissimi anni come quella di destra. E frasi famose, no? Personaggi famosi che ci hanno lasciato delle piccole perle che poi, rileggendole anche dopo 60, 70, 80, 100 anni, mille anni, forse, ci fanno vedere le cose in maniera diversa. Churchill disse ormai più di 80 anni fa stiamo forgiando il mondo più velocemente di quanto riusciamo a cambiare noi stessi e applichiamo al presente le abitudini del passato. Questo è il grosso sbaglio nostro. Pensiamo di risolvere i problemi continuando a comportarci come li abbiamo creati. Quindi dobbiamo sostanzialmente cambiare noi. Lo diceva anche l'altra sera Carlo Petrino, lo diceva Don Puglisi 30 anni fa e è stato ucciso. Se ognuno di noi fa qualcosa si può fare molto basta un piccolo gesto lo diceva mi ricordo di cosa parlava Carlo Petrini io dico sempre faccio una testa così anche gli studenti basta chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti o quando ci faccio la barba basta fare la doccia 5 minuti non 20 minuti ci si lava lo stesso e si consuma un quarto di acqua se ognuno di noi lo fa a livello globale sono miliardi e miliardi e miliardi di metri cubi. E quindi dobbiamo cambiare il paradigma passare da una nostra naturale da un nostro naturale comportamento che è egologico che mette l'uomo guardate neanche la donna in quella piramide la donna sta al di sotto mette l'uomo al primo posto il maschio e tutti sotto in funzione della scala evolutiva pensando che in fondo ci sono gli alberi che sono esseri inferiori ma ricordiamoci che gli alberi sono sulla terra da 400 milioni di anni insomma valutiamo un pochino hanno un'evoluzione di tipo diverso hanno avuto certo non hanno un cervello ma non possiamo considerare gli altri esseri inferiori quindi dobbiamo passare a un comportamento ecologico cioè basato sulla natura dove noi siamo parte di un mondo siamo ospiti non ci dobbiamo mai dimenticare che non siamo noi che ospitiamo la natura nelle nostre città ma è esattamente l'opposto è la natura che ospita la città e pensare appunto a questo cioè a cominciare a introdurre pezzi di natura alla città il futuro deve essere per forza questo non può essere che questo non possiamo pensare a un futuro diverso che non sia un futuro colorato di verde scusatemi un po' la banalizzazione ma io penso che sia proprio così il grigio non è il colore che ci farà crescere come pensavamo agli anni 60-70 è il verde e quindi bisogna pensare alla nostra città fra 50 anni i cambiamenti che proponiamo adesso non saranno magari efficaci domani forse neanche domani l'altro ma lo saranno nel volgere di qualche anno 50 anni non importa c'è chi ha fatto dei cambiamenti nel rinascimento nell'ottocento sapendo bene pensate al poggi a Firenze io sono fiorentino mi viene sempre in mente lui un qualcuno che nel 1860 fece dei cambiamenti sconvolgenti oppure Haussmann a Parigi o tantissimi che sono intervenuti nelle città facendo qualcosa di sconvolgente al momento perché pensavano non al domani ma a una città che loro forse non avrebbero neanche mai visto come è successo al poggi i cui viali adesso ospitano migliaia e migliaia di macchine tutti i giorni ma erano stati pensati per le carrozze ma lui pensava che forse il mondo crescendo avrebbe avuto bisogno di più spazze di più carrozze forse o del tram magari come adesso ci passerà e come al solito ogni problema ha tre soluzioni la mia la sua e quella giusta bisogna vivere anche di compromessi bisogna capire qual è la miglior soluzione non la mia a tutti piacerebbe che il mondo funzionasse come vogliamo noi e ovviamente quello che mi sta davanti pensa esattamente la stessa cosa il mondo funziona come tutti dovremmo volere questa frase ormai sono 3.000 anni che è stata pronunciata quindi dobbiamo pensare che mondo vogliamo perché fino ad adesso abbiamo costruito le città che erano a misura di auto e ancora purtroppo molti pensano che è molto meglio avere un parcheggio sotto casa che avere un albero sotto casa guardate questo è un problema che io lavoro su questo che non so come risolvere cioè le persone vogliono i parcheggi non vogliono gli alberi davanti a casa senza sapere che un parcheggio è un problema l'albero è la soluzione questo è banalissimo a dire forse lo dico perché sono interessato perché di questo mi occupo ma è così veramente quindi questa è una strada di New York è l'incrocio fra l'Allen e la Pike Street al ponte di Brooklyn quindi siamo in Manhattan va bene questa è una strada che obiettivamente non è anche brutta alberi comunque c'è abbastanza larga è una strada però pensata per la circolazione veicolare è una strada che potrebbe diventare una strada per le persone è diventata una strada per le persone in cui le persone possono fermarsi all'ombra possono circolare con la bicicletta possono godere dell'ombra di più alberi dove le macchine comunque hanno sempre il loro posto non è cambiato ci passano sempre le macchine l'evoluzione è questa una strada che sia ancora per le macchine che sia per le persone ma che sia anche per la gestione delle acque in eccesso New York ha un problema di esondazione di allagamenti molto frequente piove molto di più molto più concentrato il sistema fognario non è in grado di assorbire anche perché New York è sul mare quindi quando arriva e trova il mare spesso le fogne si intasano e l'acqua esce e allaga la città poco per fortuna non ci sono le disgrazie come le nostre però succede e allora come possiamo fare dobbiamo fare in modo che quest'acqua che cade sia immagazzinata pensarla come una risorsa non come un problema noi ho sentito un giornalista l'hanno ripetuto in televisione alla radio dire che è successo questa cosa nel mio Romagna che c'era poco cemento l'ha detto guardate andate a vedere l'ha detto è un direttore di un giornale c'era poco cemento secondo lui ci voleva più cemento perché così l'acqua non esondava senza pensare che sarebbe arrivata a una velocità ancora più elevata in pianura e che non si sa quali problemi avrebbe potuto creare questa è la concezione un pochino cioè il cemento è lo sviluppo il cemento è quello che ci protegge senza pensare che forse il cemento è quello che invece ci ha creato certi problemi e questo era un motto l'ho fotografato nel 2013 a New York mi pare questa 2009 scusatemi questa scritta uno non deve avere il bisogno di uscire a New York per avere tutto il verde che desidera questo era il motto New York io vorrei che la mia città avesse all'ingresso a Firenze Nord a Peretola un cartello del genere mi auguro che lo faccia stanno cambiando le cose a meno così sembra parlando con le amministrazioni le cose stanno cambiando però vorrei vederlo in tutte le città uno non deve uscire la pistola per avere tutto il verde di cui ha bisogno anche se è una piccola città e magari il verde è circondato dal verde in maniera anche devo dire molto molto gradevole e quindi dobbiamo porci gli obiettivi obiettivi che devono essere ovviamente specifici perché non si può dire sì l'obiettivo è la sostenibilità grazie ma cosa vuol dire cosa vuoi fare dimmi cosa intendi per sostenibilità l'obiettivo è aumentare la biodiversità aumentare le superfici permeabili però devo dare anche una misura devo sapere quanto aumento o quanto diminuisco dipende da che fattore sto considerando devono essere attuabili perché poi le favole il libro e le favole sapete bene dei buoni propositi sono la strecata le strade del mondo però poi alla fine l'applicabilità non è così banale come sembra devono essere realistici e devono essere ovviamente nei tempi non posso pensare che un qualcosa che mi serve ora lo faccio tra 50 anni quindi si posso pensare alla città tra 50 anni ma certe cose vanno fatte subito e capire allora e torno al mio settore che ruolo hanno gli alberi che loro dovranno avere gli alberi in questa città e quindi poniamoci gli obiettivi che abbiano gli alberi come attori protagonisti obiettivi che sono la riduzione delle isole di calore uno dei mali peggiori delle città del nostro paese in particolare dell'Europa in particolare è una città storica ovviamente quindi prive di alberi perché non ci sono mai stati in certi casi ma pensate che nel 2003 ci furono 20.000 morti in più in Italia rispetto a 2002 rispetto a 2004 e questo è accaduto esclusivamente per l'ondata di calore che colpì il nostro paese 20 anni fa l'anno scorso più o meno siamo andati di vicino si sono un po' mescolati con quelli del covid però c'è stato un incremento notevole tanto che si è abbassata l'aspettativa media di vita in Italia di un anno di un botto una cosa incredibile un mio collega improvviso è arrivato a letta di pensionamento perché lui doveva andare a 68 come era normale con la riduzione dell'aspettativa di vita è andato in pensione un anno prima lui non lo è parso il vero però la cosa è preoccupante se la guardiamo da un altro punto di vista la riduzione dell'inquinamento poi diamo anche qualche dato l'aumento delle superfici permeabili l'aumento dello stoccaggio di CO2 e la biodiversità un articolo che è stato rimbalzato a tutti i giornali delle volte anche in maniera non corretta pubblicato su Lancet nel gennaio del 2023 quindi pochi mesi fa ci ha detto che se noi arrivassero noi tutti in Europa al 30% di copertura arborea nelle città che è il target che è stato fissato dall'organizzazione mondiale la sanità ci sarebbe un terzo in meno dei morti che sarebbero evitabili quelli per il caldo quelli che muoiono purtroppo con patologie pregresse ma muoiono per l'eccesso di calore e questo è un dato fondamentale guardate che la copertura arborea purtroppo è molto bassa ma non solo in Italia ma in Italia in particolar modo certe città arrivano al 4-5% soprattutto nel sud Italia rispetto a un 30% e ci sono le città a Milano non mi ricordo quante centinaia di morti precoci ovviamente potrebbero essere evitate se si arrivasse a quella percentuale di copertura arborea e andando più sul locale questo è Firenze è una ricerca fatta da un collega del mio dipartimento anzi ora lui ha cambiato l'università ma sovra nel mio dipartimento vedete che è chiara la correlazione inversa fra problematiche legate all'isola di calore urbano e il disconfort anzi termico e la copertura arborea più alberi ci sono minore ovviamente il disconfort termico aumento superfici permeabili un'immagine tristissima infatti questa è l'immagine delle marche non è neanche delle marche di qualche mese fa sono passati pochi mesi addirittura a Faenza sono passate due settimane tra una luvione e l'altra e questo è un articolo che avevo preso per un'altra presentazione il novembre 2022 che diceva che già al 18 novembre c'erano stati il 27% in più di eventi estremi in Italia e eravamo al 18 novembre diciamo era quasi una chiusura dell'anno era quasi un bilancio un mese e mezzo dopo a fine anno il 30 dicembre gli eventi non erano poco più di 200 ma 300 c'era stata Ischia nel frattempo e c'era stato un altro non mi ricordo che cosa con morti purtroppo da piangere e con case distrutte e con problemi grossi anche nel futuro e questo è perché le città sono impermeabili tra il 60 e il 90% questa foto l'ho fatta affacciandomi da una terrazza a Chicago qualche anno fa eravamo a una festa con degli amici di un convegno noi eravamo lì mi sono affacciato mentre la casa era molto bella con l'aria condizionata anche un bel terrazzo mi sono affacciato e ho visto questo ho visto quello che non volevo vedere non vorrei vedere quello che è il problema grosso delle città perché questo lo sapete il centro storico di Firenze cioè le mura rinascimentali la Firenze rinascimentale inclusa dentro le mura questo è uno svincolo autostradale ad Atlanta che ha la stessa identica superficie uno svincolo autostradale che è grosso quanto il centro storico rinascimentale di Firenze qualche chilometro quadro perché negli Stati Uniti non c'era un problema non c'era ma adesso c'è un problema di uso eccessivo del suolo di copertura del suolo e questo è il problema nel nostro paese cioè noi abbiamo quasi l'otto per cento di suolo completamente impermeabilizzato una regione come la Toscana e continuiamo addirittura anche durante il covid abbiamo continuato a impermeabilizzare a una velocità di due metri quadri al secondo giorno e notte sabato e domenica comprese e quindi ci troviamo con un paese in quelle zone rosse dove fra l'altro si continua a impermeabilizzare cioè non è che non lo dovremo fare ugualmente andiamo semmai a cercare di creare delle strutture laddove c'è possibilità di utilizzare il suolo non lo facciamo dove il suolo è già stato quasi completamente utilizzato e questa è la foto del Veneto in Veneto c'è un capannone di 50 persone e un medico ogni 1200 è un paragone magari che non sta molto in piedi però questo è quanto un capannone di 50 persone e molti sono inutili ed è questo un articolo del post di qualche mese fa il Veneto è pieno di capannoni inutili purtroppo chiusi purtroppo perché conviene più ricostruire costruire di nuovo scusatemi che recuperare che rigenerare e purtroppo la domanda vedete se la ponevano anche qui questa è la canzone che chiuse i Live Aid nell'85 e questo è il mondo che abbiamo creato si credeva a Ferdì Mercury cantando purtroppo sì è questo siamo ancora in tempo non lo so spero di sì io non sono un pragmatico non sono un pessimista non voglio non prevedo apocalisti credo che siccome siamo esseri senzienti siamo dotati mediamente di intelligenza come ci siamo cacciati in questo in questo guaio dobbiamo uscirne dobbiamo essere noi però la nostra volontà se no altrimenti non ne usciamo non ci sarà qualcuno che ci aiuta dal di fuori dobbiamo essere noi stessi anche come diceva Petrine nei piccoli gesti come diceva appunto Don Puglisi per cui dobbiamo pensare a un prima e un dopo questo è il prima superficie completamente impermeabilizzata dove l'acqua se ne va completamente a un dopo dove ci sono degli alberi che quest'acqua la intercettano ne rallentano la velocità ne rallentano l'impatto sulle superfici e di conseguenza ne rallentano anche il ruscellamento favorendo al contempo la penetrazione lenta nel terreno in modo che il terreno possa assorbire quest'acqua e la possa poi restituire successivamente quindi gli alberi ci possono salvare io penso di sì il problema è quali perché vedete che per esempio questi sono ora faccio vedere un po' di dati perché ne ho bisogno non ce la faccio senza andare a parlare più forte di me vedete come le conif quelle sono intercettazioni delle chiome ovviamente più grande la chioma maggiore le intercettazioni è anche vero che se voglio una chioma grande come io io sono grande vedete sono grande e grosso ho due figli che sono più alti di me però quando sono nati erano piccolini insomma non tanto guardo mia moglie non tanto proprio piccolini però insomma erano piccolini sono cresciuti molto sono cresciuti va bene quindi è ovvio che bisogna partire da piante piccole per arrivare alle piante grandi però sappiamo che le piante grandi in buona salute sono molto più efficaci rispetto alle piante piccole così come ovviamente la copertura del suolo ha una grossa influenza meno il suolo è coperto maggiore ovviamente è l'infiltrazione ma questo ci vuol poco a capirlo il problema è che noi abbiamo pensato e tuttora pensiamo che il problema è piove di più condutture di deflusso più grosse no dobbiamo fare in modo che l'acqua che cade arrivi a queste condutture arrivi ai torrenti arrivi ai fossi arrivi ai canali in modo più graduale perché è chiaro che un evento come quello la Romagna è un po' difficile a contenere come quelli che sono successi anche altre volte ma se l'acqua comincia a infiltrarsi da prima che cade poi ne arriva sempre meno arriva sempre più lentamente quindi qualcosa comunque possiamo fare e poi c'è l'inquinamento no? l'inquinamento vedete che il 90% delle persone nei paesi sviluppati respira aria cattiva area di pessima qualità 90% delle persone una quantità incredibile che fa paura e ora voi non ci vedete lo ingrandisco questo è l'IS Global Ranking dell'inquinamento ci dice che su le prime 21 città per inquinamento in Europa 12 sono italiane la prima la seconda e la quarta sono Brescia Bergamo e Vicenza che guarda strano sono quelle tre città dove il Covid ha fatto più vittime forse non è il nesso non è casuale però sappiamo che l'inquinamento ha effetti diretti sulla qualità del nostro apparato broncopulmonare e questi sono purtroppo i risultati di ciò che vediamo in questa tabella dove appunto Bergamo Brescia e Vicenza sono al primo al secondo al quarto posto Saronno Verona Milano Treviso Padova Comun per fortuna direte non c'è neanche una città toscana è vero ma non è che se Atene piange Sparta può rire perché vedete che in Italia il 76% delle persone che vivono nei centri urbani respirano aria che è fuori regola rispetto alle polveri sottili siamo un'infrazione fissa noi per quanto riguarda le polveri sottili siamo il paese più inquinato d'Europa con certe zone che sono fra i più inquinate del mondo pensate con un un dazio che paghiamo in termini di morti che è impressionante e guardate questa è la Toscana e quella è la riduzione della concentrazione necessaria vedete che alcune città Siena per esempio sappiamo Siena è fortunata a questo punto di vista per orografia per collocazione per correnti ma anche perché è piccola e ha tantissima campagna tantissimi boschi intorno perfino una città piccola come Pistola guardate 17% di riduzione del PM10 41% di riduzione del PM2.5 e per fortuna il PM2 invece non è un problema quindi anche la piccola città pensate l'ho fatta vedere diverse volte questa slide riferita alle singole regioni o ai singoli paesi ho fatto una relazione a Portogruaro ho scoperto Portogruaro uno dei posti più inquinati d'Italia così come lo era Castel Bolognese per il traffico veicolare per il traffico su gomma pesantissimo e mentre in politica uno vale uno ci hanno detto 50 volte non so se è vero ma comunque ci hanno detto 50 volte in arboricoltura uno non vale uno cioè le scelte che facciamo sono importanti perché per esempio se io voglio abbattere gli inquinanti o voglio limitare anche l'impatto della pioggia devo scegliere le piante che abbiano per esempio foglie larghe foglie tomentose foglie irregolari bollose in grado di rugose scusate che siano in grado di intercettare maggiormente sia la pioggia sia anche le polveri sottili la tomentosità fa sì che le polveri sottili aderiscano alla foglia e poi vengono rilasciate eventualmente dopo una pioggia e la differenza cioè ecco perché uno non vale uno per esempio fra un acero montano e un acero norvegese che sono esattamente cugini diciamo la differenza è sostanziale questo non vuol dire che non dobbiamo utilizzare l'acero norvegese o l'acero riccio semplicemente laddove io voglio che la pianta mi riduca l'inquinamento è meglio utilizzare l'acero montano e guardate questa è una ricerca nostra un progetto LIFE diverse specie tutte comuni fatta a Rimini a Cracovia ci dice che per esempio per quanto riguarda l'assimilazione di CO2 il platano è forse la specie migliore è quella che cresce di più è quindi quella che è in grado di assorbire più CO2 però se guardo le polveri sottili sono il leccio e anche in parte il pino specie sempreverdi che ovviamente sono efficaci durante tutto l'anno ecco perché si parla di biodiversità perché ho bisogno di avere specie diverse perché magari una è più performante per una cosa un'altra è più performante per un fattore diverso e poi in ultimo la biodiversità l'ho messa perché è una delle poche volte che mi sento di dire non grazie a me che abbiamo fatto un passo avanti non ci siamo fermati alle parole la biodiversità è fondamentale anche la parola biodiversità l'ha detta la coniata Edward Wilson insomma ha detto due cose abbastanza importanti che non è solamente la diversità biologica cioè è come definizione ma è qualcosa di molto più importante nel 1799 Thomas Jefferson che era il terzo presidente se non ero degli Stati Uniti disse questa frase se si perdesse un anello della catena alla natura un altro potrebbero andare perduti finché tutto questo sistema di cose svanirebbe a pezzi sostanzialmente dicendoci che se noi perdiamo un pezzo di biodiversità e ne stiamo perdendo 150 specie al giorno il 70% sono piante perché non ce ne accorgiamo se scomparono un uccello lo sappiamo e sono quelli meno in pericolo in questo momento perché migrano velocemente si spostano avete visto io insomma non sono più giovane però quando ero ragazzo io gli aironi non avevo mai visti le gallinele d'acqua hanno mai viste i cormorani mai visti Firenze la piana di Firenze è uno zoo in questo senso perché ovviamente gli uccelli si sono spostati hanno trovato un clima più favorevole e non migrano più quindi sono quelli meno soggetti a scomparire per la biodiversità mentre le piante che sono sessili si muovono ma con una lentezza enorme non sono in grado di affrontare i cambiamenti climatici in modo in tempi giusti e il 22 maggio sei giorni fa lunedì scorso è stata la giornata internazionale della biodiversità a dicembre a Montria si è riunita la COP15 che è per la biodiversità che è una cosa diversa rispetto alla COP invece l'altra che si è riunita a Sharma Sheikh poteva scegliere un posto migliore obiettivamente la prossima a Dubai ora andare a parlare di cambiamenti climatici a Sharma Sheikh a Dubai a me fa un po' ridere scusatemi l'ironia forse un po' troppo trita ma è così fatela in un posto insomma dove magari si consuma meno dove l'impatto ambientale è molto minore però questo è hanno detto tante parole a COP15 l'altro giorno è apparso un articolo su Nature quindi non su il giornaletto del mio comune su Nature il quale diceva che gli obiettivi che sono stati fissati a dicembre sono irrealizzabili i famosi obiettivi con le tempistiche sia realizzabili eccetera hanno posto gli obiettivi al 2030 che sappiamo bene non possono essere realizzati allora attenzione quando si pongono degli obiettivi l'unico motivo di vanto è questo nel PNRR lo Stato italiano ha messo 320 milioni di euro per la ricerca sulla biodiversità ha creato un centro nazionale sulla biodiversità il National Biodiversity Future Center del quale anche la mia università io faccio parte che ordino le attività di una parte del centro di Firenze per lo SPOC biodiversità urbana ecco questa messe di fondi non si era mai vista sono fondi destinati soprattutto all'assunzione di giovani e questo ha cambiato anche gli aspetti dei dipartimenti lo dico per battuta abbiamo fatto un consiglio di dipartimento dopo tanti in remoto e abbiamo cominciato a farli in presenza e ho visto un sacco di ragazzi di giovani ma questi che sono sono i nuovi ricercatori sono un grosso dipartimento assunti col PNRR e mi ha fatto tanto piacere vedere ragazzi e ragazze soprattutto ragazze giovani volenterose vogliose di fare e di cambiare veramente qualcosa e questo potrebbe essere un segno con tutte le difficoltà del PNRR allora la domanda è ma gli alberi possono davvero salvare la terra questo save the planet che l'abbiamo sentito tante volte questo mantra che ci ripetono continuamente magari invece di buttare la vernice nella fontana di Trevi andiamo a piantare un albero forse è meglio si fa più bella figura secondo me scusatemi la polemica si guardate un po' queste immagini questa è un'immagine della NASA la terra respira respira non è che cambia quello è la copertura le piante che sono attive e non attive nelle grandi foreste boreali che cominciano in primavera a germogliare arrivano al massimo all'estate e poi in inverno si ritira guardate la terra è un pianeta che respira un pianeta vivo quindi dobbiamo in qualche modo salvare la terra per salvare noi stessi la terra si salverà da sola queste foreste se noi scompariamo torneranno a respirare in qualche migliaio di anni ma lo faranno però purtroppo noi non ci saremo più e e cosa succederà? questo è un libro degli anni 60 ma mi ricordo Un mondo senza gli alberi io ho letto un libro un po' scritto in inglese buono però un po' duro in certe parti prefigura un mondo senza lui parla soprattutto la foresta amazzonica un mondo senza alberi e un'altra persona questo è Jared Diamond che io ho avuto l'onore di conoscere è venuto qui a Pistoia gli ho organizzato un seminario io nel 2015 a Pistoia ci ho passato tre giorni insieme una persona non si può non volergli bene di una modestia di una cosa è diventato un mio amico dopo un'ora che lo conoscevo è una persona premio Pulitzer un antropologo medico lui poi è diventato antropologo poi è diventato ornitologo va bene davanti a un piatto di trippa che lui diceva che non ho la trippa no poi mi disse ma la voglio provare perché bisogna provare tutto quando si vanno in paese e venne con me a Firenze una cena a mangiare la trippa e mi parlò di tante cose mi ha aperto un mondo mi ha affolgorato più dei suoi libri più la persona dei libri pensate qualche volta uno dice scrive però poi alla fine invece no più la persona dei libri e lui ha pubblicato due anni fa quel libro l'ultimo l'ultimo albero sull'isola di Pasqua che un po' prefigura la fine cioè gli abitanti l'isola di Pasqua sono scomparsi probabilmente perché hanno tagliato tutti gli alberi che c'erano su quelle isole a meno lui ha questa teoria che è ovviamente surrogata da prove e purtroppo le prove ce le abbiamo direte che c'entra questo questo è un insetto è un coleottero va bene si chiama scarabeo smeraldino è la passione degli entomologi perché ovviamente questo è grande verde questo verde metallizzato purtroppo questo è uno dei peggiori flagelli che ci stiano sulla faccia della terra che ha distrutto miliardi e miliardi di frassini e li distruggerà adesso è arrivato già nel Caucaso venne dalla Cina è arrivato verso Mosca è sceso giù nel Caucaso è stato importato non si sa come negli Stati Uniti dove non ha trovato nemici naturali adesso gli stanno introducendo anche lì nemici naturali che le piante in un processo di coevoluzione hanno prodotto loro stesse in Cina i frassini convivono naturalmente con questi insetti perché si sono evoluti producendo un idrossicumarina nei tessuti che è praticamente non letale ma è un repellente per questi insetti quindi si fa qualche danno ma poca roba negli Stati Uniti ha ucciso praticamente tutti i frassini della zona centrale degli Stati Uniti miliardi e miliardi con danni diretti per quanto riguarda il legname impressionanti di 7, 8, 10 chi parla 20 miliardi di dollari ma il danno più grosso è stato un altro è stato questo questa è una strada a sinistra prima dell'arrivo dello scarabello smeraldino a destra dopo l'arrivo gli alberi sono tutti morti tutti morti in certe città purtroppo per uno sbaglio perché non si è pensato alla biodiversità il 70% degli alberi erano frassi americani perché? perché resistevano al freddo resistevano alla siccità erano belli un bel fogliamo adunnale perché non piantarli? che se ne frega la biodiversità tanto questi crescono bene costano anche poco noi li troviamo nei vivai perché sembra che nei vivai non costi niente però poi costa in realtà perché ci vuole costa a produrla e che è successo? hanno visto hanno monitorato i morti dopo l'avvento dello scarabello smeraldino per quanto riguarda la mortalità legata a patologie respiratorie 6.100 morti in più in alcune con te questo è un dato ristretto non è tutti gli Stati Uniti e 15.000 dovuti a problemi cardiovascolari in più morti precoci in più rispetto a quelle che erano le statistiche precedenti all'avvento non solo hanno visto anche che ci sono state c'è stato un aumento nelle diverse tipologie di reato c'era più propensione a delinquere da parte delle persone laddove non c'erano gli alberi non laddove ci sono gli alberi dove si nascondono i ladri gli assassini delinquenti no dove non c'erano gli alberi c'era più e allora cosa è successo anche è successo che questo impressionante no hanno visto che laddove lo scarabello smeraldino ha colpito di più in quelle zone le mamme partorivano bambini sotto peso e anche prematuri con una frequenza maggiore rispetto alle zone invece dove o non c'erano frassine e quindi non si era persa la copertura albore oppure laddove non era arrivato lo scarabello smeraldino questo è impressionante c'è un dato che magari se non ci si pensa non si può correlare però andando a guardare si vedono questi risultati e allora alla fine questa è una frase Guy McPherson l'ha scritta qualche anno fa poi ha perso la testa ha detto una serie di sciocchezze lasciamo perdere siamo andati un po' per la tangente come spesso fanno le persone e diventano troppo troppo note però se pensate che l'economia sia più importante e l'ambiente provate a trattenere il respiro mentre contate i vostri soldi si muore anche se uno ha un tavolo pieno di soldi si muore non provate perché è accertato e allora com'è che si può convincere si possono convincere le persone si possono convincere gli stati con questi articoli recentissimi quello dell'agosto 2022 e quello del 25 maggio quindi di qualche giorno fa come la perdita di biodiversità potrebbe causare la bancarotta in alcune in alcuni paesi oppure quello è la la United Nations che dice che la biodiversità la mancanza di biodiversità è un gap economico finanziario che dobbiamo affrontare fa un corso addirittura su questo per legare la biodiversità alla crescita economica anche alle manovre finanziarie e e questa è brutta eh quest'articolo se vi capita di leggere è un pugno nello stomaco che fa male però dice delle scomode verità ci dice che il valore statistico di una vita si può calcolare economicamente che in Italia è 6 milioni e 4 di dollari una persona va bene una persona e tralascio quello che c'è scritto in articolo le teorie di alcuni studiosi che dicono economia che posso anche eh aridamente eh accettare ma non posso accettarle come moralmente come illecite no è meglio che una persona muoia perché se muore costa meno alla società no questo non lo posso accettare però devo accettare che la vita ha un valore è un valore che è quello e purtroppo l'Italia è il primo paese in Europa come vi dicevo per morti legate all'inquinamento più o meno direttamente si parla di 80.000 morti sono dati che trovate sull'Organizzazione Mondiale Sanità sulla European Environmental Agency quindi sono dati certi voi fate il conto 80.000 di cesse li moltiplicate per 6 miliardi 6 milioni e 4 dollari per persona avevano fatto una cifra di circa 500 miliardi l'anno che questo ci costa 500 miliardi l'anno detto con l'accento fiorentino per l'altro che a me 500 non mi riesce a dirlo purtroppo e allora vediamo un po' quasi finito vi preoccupate questo è interessante perché un primo ministro messicano a un convegno qualche anno fa parlò di arbonomia a che tutti lo guardarono perché lui aveva coniato un nuovo vocabolo che purtroppo non ha attecchito forse perché l'aveva detto un ministro messicano e non Trump non quell'altro che gli piace fare la guerra o Xi Jinping va bene l'aveva detto un primo ministro messicano chi se ne frega arbonomia l'arbonomia cos'è è l'economia legata agli alberi perché in presenza di più alberi sappiamo abbiamo detto ho fatto una testa così c'è meno stress fisico e psichico c'è una migliore qualità dell'aria tutto questo si traduce in la salute fisica stiamo meglio non siamo stressati quindi stiamo meglio stiamo meglio cosa vuol dire che ovviamente abbiamo uno stato fisico migliore ci sentiamo meglio di conseguenza anche mentalmente stiamo meglio tutto questo si riverbera nei costi del servizio sanitario nazionale 117 miliardi l'anno di cui una buona parte per malattie legate alla sfera mentale in Europa si spendono 800 miliardi l'anno per malattie legate patologie legate alla sfera mentale qualcosa come 13 mila miliardi di dollari a livello mondiale pensate un po' che cifre c'è le cifre enormi depressione essenzialmente il 30% delle ore lavorative nel 2030 sarà perso per problemi di depressione 30% ci costa a livello europeo 800 miliardi l'anno quindi sono cifre che quando si parla di 20 miliardi 30 miliardi sembrano enormi poi si parla 800 migliaia di miliardi legati sarà la causa principale di perdita di ore lavorative nel 2030 la depressione allora cosa vuol dire vuol dire che un costo enormemente inferiore vuol dire che ci saranno anche meno crimini abbiamo visto quindi essendoci meno crimini ci sono anche migliori interazioni sociali meno crimini meno costi legate alla carcerazione ai processi sappiamo bene tutto quello che succede più produttività e di conseguenza l'economia cresce gli alberi ci fanno crescere non crescono solo loro stessi noi piantiamo un albero vediamo crescere ma con lui cresciamo noi cresce il paese cresce l'economia mondiale io non voglio essere troppo infatico su questo ma è così è la realtà è che non ce ne rendiamo conto di questo e alla fine ovviamente va dalla fine l'altro giorno Carlo Petrini ha evocato l'avautato sì di cui lui ha scritto l'introduzione ha detto quanti di voi l'hanno letta io non ho alzato la mano perché sono sincero non ho letta non ho letta alcuni pezzi adesso siamo fortunati andiamo sulla scarichiamo guardiamo cerco la parola albero cerco la parola natura lui mi trova tutte le volte che c'è citata la parola albero la parola natura io prendo dei pezzi ti leggo quei pezzi che più mi interessano comunque non è una lettura piacevole per quei pezzi che l'ho letta è una lettura molto piacevole e sostanzialmente fra tante cose Papa Francesco ci dice di piantare alberi piantare alberi che perché chi pianta questo l'ho detta io in realtà Papa Francesco perché chi pianta un alberi pianta una speranza e chi compra un albero compra una medicina lo possiamo dire perché la ricerca la scienza ci dà supporto su questo chi compra un albero compra una medicina e chi pianta un albero pianta una speranza ricordiamoci però che gli alberi rimangono se noi ce ne andiamo ma se se ne rimangono loro noi purtroppo non rimaniamo grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti